Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa prima edizione del nostro notiziario di oggi. Una giornata molto importante per la messa a punto delle nuove misure per cercare di fermare la diffusione del coronavirus. Oggi ci saranno nuovi incontri anche tra il Premier e i rappresentanti delle regioni dopo il braccio di ferro della giornata di ieri, proprio sulle misure che saranno introdotte nel nuovo DPCM. I governatori chiedono regole nazionali mentre Conte punta a stabilire delle zone rosse in base alla diffusione territoriale del virus indicata dall'indice RT. Tra le ipotesi in discussione, il coprifuoco in tutta Italia dalle 21 sarebbe l'ipotesi di compromesso tra la richiesta di una chiusura nazionale dalle 18 fatta da alcune regioni e l'indicazione del Governo per restrizioni limitate alle aree in cui l'indice di contagio è più alto. Il confronto sul nuovo DPCM sta andando avanti ancora e molto probabilmente il nuovo testo prevederà anche la chiusura dei musei dopo quelle dei cinema e dei teatri. Nelle aree a maggior contagio si pensa a bar e ristoranti chiusi anche a pranzo. La didattica a distanza a partire dalla seconda media e l'obbligo della mascherina per le elezioni in presenza anche alle elementari e in prima media. Sono tanti ancora i nodi da sciogliere e probabilmente proprio per questo il nuovo DPCM slitterà alla giornata di domani. C'è attesa comunque per sentire le parole di Conte oggi in Parlamento. Alle 12 interverrà alla Camera, poi nel pomeriggio al Senato. Illustrerà appunto al Parlamento l'orientamento che intende dare al nuovo DPCM. Intanto i dati di questa epidemia ci dicono che il virus continua a circolare molto, ci sono nuovi contagi anche se in Italia il numero dei nuovi positivi ieri è risultato leggermente inferiore rispetto al giorno precedente ma questo a fronte di un minore numero di tamponi. I numeri italiani ieri 29.907 nuovi positivi a fronte di 183.457 tamponi con un indice di positività sul totale dei tamponi effettuati pari al 16,30%. Il giorno precedente, quindi nella giornata di sabato, l'indice era del 14,71%. C'è stato anche un aumento delle vittime, ci sono stati 208 morti nelle ultime 24 ore, in realtà in diminuzione rispetto al giorno precedente quando erano stati 297 per un totale di decessi da inizio epidemia di 38.826. Gli attualmente positivi sono 378.129, 26.743 in più nell'arco delle 24 ore. I guariti e dimessi sono stati circa 3.000 in un giorno per un totale di 292.380 da inizio epidemia. Il totale dei casi da inizio epidemia in Italia ha superato le 709.000 unità, 709.335. E poi ancora qualche dato, quello sui pazienti ricoverati negli ospedali. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 unità nell'arco delle 24 ore. Sono 1.939 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, 18.902 quelli ricoverati negli altri reparti, 936 in più in una sola giornata. Questi i dati nazionali che vedono, analizzando regione per regione, in primo piano sempre la Lombardia con oltre 8.600 nuovi positivi in un giorno. Dai dati nazionali adesso passiamo a quelli regionali. Nelle ultime 24 ore in Friuli, Venezia e Giulia ci sono stati 403 nuovi positivi. A fronte di 3.740 tamponi, con un indice di positività, con un indice che il rapporto tra tamponi positivi e totale dei tamponi effettuati ha superato il 10%, 10,77%. Attualmente ci sono 5.440 persone positive. La maggior parte è a casa, in isolamento, 5.158, ma ci sono anche più di 200 persone in ospedale. 38 nelle terapie intensive, in leggero aumento, in leggero aumento anche le persone ricoverate negli altri reparti, 180 in tutto. E proprio la situazione degli ospedali, dei servizi territoriali sarà al centro oggi di una serie di incontri tra l'assessore regionale alla salute, i sindacati della sanità e poi anche i medici delle varie aziende sanitarie. La curva dei contagi indica che dovremo agire sull'organizzazione ospedaliera con manovre di riconversione, ha detto ieri Riccardi, in modo da ampliare l'offerta di strutture intermedie. Dovremo agire anche sulla territorialità con il supporto dei medici di medicina generale e con risposte modulate alle esigenze crescenti di isolamento. Si prospettano esigenze rilevanti, ha detto ancora Riccardi durante l'incontro con i sindaci dell'ambito dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Si prospettano esigenze rilevanti di ricovero nelle strutture non intensive, auspicabilmente con turnover veloci di pazienti, ha detto Riccardi. Pertanto, monitorando l'andamento dei prossimi giorni, dovremo intervenire con adeguamenti che stiamo già studiando. Secondo il vice governatore, un'altra priorità è data dal Governo dell'attività di isolamento per le persone positive e asintomatiche, o comunque a domanda sanitaria limitata. Su questo tema, che richiede la forte collaborazione dei medici di medicina generale, una risposta per i casi non risolvibili a domicilio può essere data dall'albergo sanitario. A tale proposito, riporta una nota della Regione, il direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, Iosef Polimeni, ha confermato che il palazzo dei emissionari comboniani a Pordenone potrebbe essere una soluzione su cui si sta cercando di chiudere rapidamente per soddisfare il fabbisogno della destra tagliamento. Polimeni ha inoltre indicato la necessità di affiancare una nuova struttura intermedia a medio-bassa intensità di ricovero alla Residenza Sanitaria Assistenziale di Sacile e ha reso noto che presto sarà acquisita l'apparecchiatura necessaria a raddoppiare il numero dei tamponi nel Friuli Occidentale. Per assicurare i tamponi ai professionisti sanitari e sociosanitari impegnati in prima linea nei servizi domiciliari, come è stato confermato dalla Direzione regionale della Sanità, saranno ricavati dei percorsi preferenziali. Ogni decisione che saremo chiamati ad assumere seguendo ora per ora gli sviluppi nazionali, ha concluso l'assessore regionale alla salute Riccardi, avrà una valenza complessiva regionale e richiederà da parte di tutti un senso di responsabilità esente da logiche di campanile e di settore. Queste le parole di Riccardi. In queste ultime ore stanno facendo discutere molto le parole che sono state dette ieri dal presidente della Liguria Giovanni Totti in merito al ruolo delle persone anziane in questa situazione. Il paese non può permettersi un nuovo lockdown, ha scritto Totti e aggiunge poi che bisogna intervenire sulla categoria più fragile, gli anziani. Si tratta di persone che sono per fortuna per lo più in pensione, ha detto, non sono indispensabili allo sforzo produttivo del paese, ma essendo più fragili vanno tutelate in ogni modo. Parole queste che hanno acceso un ampio dibattito, tant'è che poi il presidente della Liguria è intervenuto e ha detto che il senso di questo messaggio, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere più tutelate. Un tweet mal scritto e volutamente da molti male interpretato, ha aggiunto il governatore della Liguria. Adesso diamo spazio a un'altra notizia del giorno, è arrivata all'alba di oggi, la notizia della scomparsa di Gigi Proietti. L'attore era ricoverato da alcuni giorni in una clinica romana a causa di alcuni problemi cardiaci. Proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni. Allora vediamo la scheda realizzata dall'agenzia ANSA che ci ricorda un po' la figura di Gigi Proietti. Grazie a tutti. E oggi, 2 novembre, ricorre anche il 45esimo anniversario della tragica morte di Pierpaolo Pasolini. Il comune di Casarsa renderà omaggio al poeta depositando un mazzo di fiori sulla sua tomba e su quella della madre, Susanna Colussi. Anche quest'anno, ha sottolineato la presidente delle centro studi Pasolini, Flavia Leonarduzzi, abbiamo voluto fortemente esserci, seppure non sia prevista un'iniziativa pubblica, vista la situazione. Sarà un momento ancora più raccolto nel quale, a nome di tutta la popolazione, rinnoveremo affetto e gratitudine a uno dei più grandi intellettuali del XX secolo, figlio illustre di Casarsa, la città dell'amata madre, nella quale Pasolini trascorse le stati dell'infanzia e il lungo periodo durante la guerra e che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione umana e artistica. Proprio gli anni friulani di Pasolini saranno al centro di una nuova mostra, la cui inaugurazione era prevista per il 31 ottobre ed è stata rinviata, che prende spunto dai 75 anni dall'istituzione dell'Accademi Uta di Lenga Furlana e che vedrà esposti molti materiali preziosi, documenti originali e in gran parte anche inediti, molti conservati dal centro studi Pasolini stesso, oltre che da altri importanti archivi italiani che collaborano alla realizzazione della mostra, documenti provenienti anche da collezioni private. Quelle che abbiamo visto prima invece erano le immagini del documentario in un futuro aprile, il giovane Pasolini firmato da Francesco Costabile e Federico Savonitto distribuito online dalla Tacker Film che da questa sera, dalle 20 e 30, sarà visibile live in streaming via Zoom sul sito www.iorestoinsala.it. La proiezione del documentario sarà preceduta anche dalle interviste del critico Federico Pontigia ai registi. Il documentario lo vediamo proprio in questa immagine, mostra anche l'ultima intervista a Nico Naldini. E adesso cambiamo decisamente argomento e passiamo alla cronaca, andiamo in Veneto per un gravissimo incidente stradale, che ha costato la vita a un'automobilista della provincia di Treviso. L'incidente è avvenuto in provincia di Rovigo. Allora sentiamo il servizio di Rosario Padovano. Terribile schianto in provincia di Rovigo. Muore Alberto Corli, 61 anni, residente a Trevignano, in provincia di Treviso. Alle 18.40 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale regionale 443 Transpolesana all'altezza della zona industriale di Villa Dose per un'autovettura finita contro un albero. Deceduto appunto il conducente. I pompieri arrivati da Rovigo hanno messo in sicurezza l'Opel Adam ed estratto il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura rovesciata su un fianco. Purtroppo il medico del SUEM ha solo potuto constatare la morte di Corli. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi di legge. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo qualche ora. E' un sistema di riciclaggio di denaro anche attraverso trasmissioni televisive dedicate alle previsioni dei numeri dell'otto è stato scoperto dai carabinieri di Brescia. Dalle prime ore della mattina in tutto il territorio nazionale 150 carabinieri del comando provinciale stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di numerose persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro di provenienza illecita ricavato per il tramite di trasmissioni televisive specializzate nella previsione dei numeri dell'otto con l'aggravante di aver agevolato l'attività dell'andrangheta. Contestualmente i militari stanno eseguendo anche misure patrimoniali con il sequestro di beni per un ammontare complessivo di 25 milioni di euro. E passiamo adesso ai controlli effettuati nelle ultime ore da parte delle forze dell'ordine in provincia di Trieste, controlli per verificare il rispetto delle normative anti-covid 399 le persone controllate dalle forze dell'ordine, 2 quelle sanzionate perché prive della mascherina è stato controllato anche un esercizio commerciale, in questo caso tutto è risultato nella norma. E' sempre per quanto riguarda la cronaca, gli interventi della Polizia di Trieste da segnalare anche la denuncia da parte della Polizia di Trieste di una donna cittadina francese classe 1961 che è stata sorpresa dagli agenti del commissariato di Duino in località San Giovanni di Duino mentre con un coltello stava tagliando le gomme di un camper e di due autovetture in una piazzola di sosta. Il fatto è stato segnalato al 112 da alcuni passanti. La donna trovata appunto in possesso del coltello è stata denunciata. Andiamo sul litorale adesso, sul litorale tra Caorle e Bibione per parlare di collegamenti via fiume chiesti dal comune di Portogruaro. Vediamo. Portogruaro pensa a come sfruttare in ambito turistico il fiume Lemene. L'assessore al turismo Pietro Rambuschi sta preparando un progetto da proporre all'attenzione del sindaco Florio Favero sull'avvio dell'ambizioso progetto di un servizio che rivoluzionerebbe il trasporto fluviale. La mia idea, ha detto Pietro Rambuschi, è quella di creare corse giornaliere in barca per i portograresi e i turisti per Bibione e Caorle. Dobbiamo decidere quale attracco poter utilizzare. Lo ritengo un servizio utile per incentivare soprattutto le presenze dei turisti stranieri e degli italiani nella nostra città, Portogruaro. La proposta di Pietro Rambuschi è stata accolta con tiepido entusiasmo dalle categorie economiche e turistiche. Molto c'è da lavorare, ma il sindaco di San Michele Bibione, Pasqualino Codoniotto, è stato il primo, già nel 2018, a varare la formula dei traghetti in grado di trasportare i turisti. Sarà quindi un nuovo servizio, quello del 2021 tra Bibione e Portogruaro? Lo staremo a vedere. E siamo arrivati adesso alla pagina sportiva. Parliamo di Udinese. Udinese che, come sappiamo, ieri è stata abbattuta dal Milan alla Dacia Arena per 2-1 con un gol di Zlatan Ibrahimovic celebrato. Questa mattina l'abbiamo visto su tutti i quotidiani sportivi. Allora andiamo a vederci le immagini della gara di ieri, nel prossimo servizio. Cade ancora la Dacia Arena l'Udinese che perde 1-2 contro il Milan nel lunch match della sesta giornata di Serie A. Gotti cambia modulo, riabbraccia Musso, lancia Pussetto e Deulofeo e passa alla difesa 4 anche in campionato. Dopo il positivo esperimento provato in Coppa Italia, la squadra non sfigura, ci prova, ma incappa ancora una volta in una sconfitta immeritata. E ora i K.O. sono 5 in 6 gare. Il match in avvio si dimostra molto tattico con le due squadre che si studiano e non concedono spazi, almeno fino al minuto 18 quando il Milan sblocca il punteggio. Ben Nasser sventaglia per Ibrahimovic che sorprende l'Arsen alle spalle. Lo svedese controlla e vede l'inserimento di Cassi che viene dimenticato dalla retroguardia frullana. L'Ivoriano spara sotto la traversa e porta i vantaggi rossoneri. L'Udinese poco dopo avrebbe anche la possibilità di pareggiare su un errore in impostazione del Milan, ma il tocco di Pereira per Deulofeo è leggermente lungo e costringe lo Spagnolo a calciare col Mancino con la palla che termina alta sopra la traversa, difesa da Donna Rumma. Nel finale di tempo ci prova Ibrahimovic da fuori, ma Musso non si fa sorprendere, si va al riposo sul punteggio di 0 a 1. Nei secondi 45 minuti però l'Udinese pareggia subito Pussetto, supera Romagnoli che sfiora il pallone ma stende anche l'Argentino per Di Bello. Non ci sono dubbi, calcio di rigore per i bianconeri che tornano dal dischetto dopo una vita. L'ultimo infatti l'avevano calciato addirittura il 7 aprile 2019 contro l'Empoli dagli 11 metri. Si presenta De Paul che non sbagli, firma l'1 a 1. Il match a questo punto si accende con entrambe le squadre alla ricerca dei tre punti, anche se occasioni clamorose. Non se ne vedono all'83 però ecco la beffa a Rebic butta in area al pallone, la sfera si impenna e Ibrahim vicino a Clobazia, beffa musso per il 2 a 1. Finale l'Udinese non riesce ad agire e di conseguenza ad acciuffare un pareggio che meriterebbe finisce 2 a 1 per il Milan. I rossoneri restano in vetta, l'Udinese resta giù e venerdì prossimo affronterà il Sassuolo. Sassuolo che ieri ha battuto il Napoli, allora andiamo a vedere con l'aiuto della regia e della grafica tutti i risultati dell'ultima giornata di campionato che era iniziata sabato con la vittoria dell'Atalanta sul Crotone per 2 a 1, poi il pareggio tra Inter e Parma 2 a 2, il Bologna aveva battuto il Cagliari per 3 a 2. Ieri l'Udinese ha perso in casa con il Milan per 2 a 1, vittoria in trasferta della Juve contro lo Spezia per 4 a 1, il Torino perde in casa per 3 a 4 contro la Lazio e poi appunto la vittoria in trasferta del Sassuolo che al San Paolo batte il Napoli per 2 a 0, la Roma batte la Fiorentina per 2 a 0, definito in parità il derby della Lanterna 1 a 1 tra Sampdoria e Genova e questa sera si affronteranno Verona e Benevento. La classifica vede in testa il Milan con 16 punti, 14 il Sassuolo, poi Juventus e Atalanta a 12, 11 punti per Napoli, Inter e Roma, 10 per Sampdoria e Lazio, il Verona a 8 punti, 7 punti per Fiorentina e Cagliari, Benevento e Bologna a 6 punti, 3 squadra a 5 punti, Genoa, Parma e Spezia, 3 punti per l'Udinese, 1 punto per Torino e Crotone. E allora andiamo a sentire adesso anche le parole di Mr. Gotti che ha commentato così la classifica e anche il momento e la partita dell'Udinese. Vediamo. Il Milan si era portato in vantaggio nel primo tempo, ci sono stati momenti in cui abbiamo sofferto, ci sono stati momenti soprattutto nel secondo tempo, ma già nel primo, due o tre volte, avevamo creato dei presupposti, dal mio punto di vista, molto importanti per far male al Milan, sbagliando l'ultimo passaggio, essendo molto imprecisi sulla zona di rifinitura, sulla tre quarti. Nel secondo tempo invece, per un periodo abbiamo preso il campo, abbiamo preso in mano il campo, la partita è cambiata, siamo riusciti a pareggiare, e poi gradualmente il Milan ha ripreso un po' di dominio nel centro campo, sembrava fosse indirizzati verso un epilogo diverso, che invece è stato deciso da questo episodio a cui faceva riferimento lei. Le chiedo anche una cosa, senza fare di numeri, sulla tenuta che la squadra ha dimostrato, tenendo in campo contemporaneamente, sin dall'inizio, tanti uomini di qualità. Sì, l'abbiamo preparato in questo modo, abbiamo cercato di permetterci maggior qualità possibile, e suddividere tra tutti lo sforzo difensivo, la corsa, cosa che da questo punto di vista ha avuto un'ottima risposta. Come adesso si va avanti, in che senso? Lo score purtroppo è pesante in negativo, una vittoria, cinque sconfitte, quindi la classifica non è bella, l'inizio è stato un po' ad handicap. Cosa dirà poi ai giocatori? Perché magari dopo una prestazione del genere, vedersi ancora una sconfitta, potrebbe oltremodo scoraggiarli, demoralizzarli. I giocatori sanno bene, anche i perché delle sconfitte, l'unico modo che c'è per cambiare le cose, è gradualmente, giorno dopo giorno, cercare di migliorarle, lavorarci insieme, avere delle idee comuni, in fase offensiva, in fase difensiva, delle letture sempre migliori, ed è solo il lavoro che gradualmente ti porta a cambiare il trend delle cose. E l'Udinese già oggi sarà di nuovo al lavoro proprio per preparare la sfida di venerdì sera contro il Sassuolo. Adesso vi lascio al meteo, noi ci rivediamo alle 12 per tutti gli aggiornamenti di Cronaca e di Sport. A più tardi. Amici di Udinese TV, un saluto e ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Travi Meteo. Giornata piuttosto grigia sulle Friuli, Venezia, Giulia, in un contesto però prevalentemente asciutto. Temperature massime in diminuzione sulle zone pianeggianti, clima piuttosto mite invece in montagna. Andiamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa tra Pordenone e Udine. Come vedete i cieli saranno piuttosto nuvolosi sulle zone pianeggianti. Infatti nel corso del giorno vedremo la presenza di nubi basse mentre nelle ore più fredde della giornata si segnala la presenza di un po' di foschia o qualche banco di nebbia. Maggiori schiarite invece sui settori montuosi. Clima piuttosto frizzante al mattino, massime non oltre i 16 gradi. In dettaglio spostiamo la nostra attenzione sulla situazione attesa tra Gorizia e Trieste. Come vedete la giornata sarà piuttosto grigia ma senza particolari fenomeni associati. Temperature minime intorno ai 9 gradi su Gorizia, 12 su Trieste, massime non oltre i 16 gradi. Con questo è tutto, ma come sempre per saperne di più amici di Udinese TV restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. Grazie! Grazie! Grazie.